bella raga il mio nuovo album Sinatra, certificato disco d'oro dalla Fimi, grazie a Island Records Italia, grazie a BHMG, grazie a Charlie Charles, Marco Zangirolami per aver realizzato l'album, tutti quelli che hanno collaborato e vaffanculo quelli che hanno dubitato eccoci arrivati a Amsterdam per l'Ade perché siamo dei noti appassionati e intenditore di musica elettronica e vuoi mandare anche a Musoli Van Gogh? Sì, poi anche a quello delle Cere, soprattutto all'Ade perché la musica elettronica è tutto per me e per noi la musica elettronica è la musica elettronica, grazie a tutti